Ci siamo ragazzi, visto il grande successo di Mario Kart Tour, ho chiesto tramite gli Instagram Stories di ScuolaZoo Qual è il vostro videogioco da cellulare che vi fa impazzire, con cui passate un sacco di tempo Mentre i professori magari spiegano o interrogano i vostri amici e quindi voi vi siete salvati dall'interrogazione Bene, ha vinto COD Ho provato a giocare un po' ma... Sono un po' scarso Sono un nabbo Però non posso iniziare senza il mio classico cappello Dario, vai Eccolo qua Bene ragazzi, ci siamo Questo sono io Bellissimo Ci siamo, oddio, c'ho l'ansia C'ho l'ansia Qua ce n'è uno, andiamo se... Muori Munizione di esaurimento, bene Oh, 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 uno è morto Ma questi sono qui e non mi fanno niente Ma che significa? È un bug Ora faccio solo uccisione col coltello No, l'ho ucciso il mio amico Ehi, accessore il mio amico No Morto Oddio, cos'è questa cosa? Tocca per lanciare Bello che sparano i miei amici e non me Che fortuna Ho una mira sguincia in una maniera incredibile Ragazzi, secondo me a livello di kill Non sto andando malissimo, eh No, ho ucciso il mio amico? Maleducato È un maleducato Oh Il campero Dove sei? Muore Ma perché muore? In realtà lo prendo a pugni Oh Ci vuole Oh, ho ucciso il mio amico Come ti permette? È sparito È sparito Mi rubo l'arba È bello che da una certa mi lasciano stare Perché forse capisco che sono scarso Boom Boom E la madonna Boom Ragazzi, cioè non sono poi così scarso, eh Io me la prendo con gli altri Mentre gli altri fightano Io vado da dietro Cosa ha lanciato? Il drone Uccisione col drone, ragazzi Lanciamo un missile a caso Mi devo abbassare però Se no mi ammazzo Vai Muori Però non sono morto io, strano Oh Muori Che è successo? Abbiamo vinto La prima partita, signori, l'abbiamo vinta? L'ultimo uccisione l'ho fatta io L'ultimo uccisione l'ho fatta io Bellissimo, ragazzi Vittorio, guardate che stile che ho, ragazzi Che stile che ho Che stile che ho Allora ragazzi, challenge solo coltello Andiamo Solo col coltello Vai Muori No, ucciso No, ragazzi Solo coltello non si può fare Muori Dove vai? Dove vai? Ok, morto Vediamo se riesco a fare tante kill solo col coltello Questo è un nemico No, mi ucciso Why you bullying me? Lancio una bomba a caso Vediamo, qua, questa qua Vai Vola, farfalla Ehi, che sta sparando al nemico? Solo col coltello Tanto il coltello non serve neanche la ricarica Giusto? Dove vai? Morto Ragazzi, sto facendo solo kill col coltello Mi nascondo un po' Vabbè, un missile simbolico Che fai? Non lo lanciamo? Ma sì Ma sì Boom Ah, uccisione preda Lancio un drone a caso No, cavolo Era già morto Vabbè, raga Ammazzo un po' così Stiamo perdendo malissimo, ragazzi Forse non è una buona idea Usare solo il coltello Quindi Adesso userò un po' tutte le armi Vediamo un po' Lanciamo una bomba senza senso Ma lancio a caso Se ammazzo qualcuno, raga Vuoi lasciare i miei Ma sto disgraziato Ma gli do i pugni in faccia Guardi, disgraziato Ma, oh, ma non muore mai Oh Dove vai? Vieni qua Dove scappi? Lui secondo me è più scarso di me Ciao Volete venire a casa mia? Vediamo se qualcuno viene a trovarmi a casa Oddio, c'è anche un bel tavolo Non mi piace il tavolo Non lo posso graffiare Mi piace incidere il legno Mentre gli altri combattono Vuoi venire a casa mia? Eh no Ma sì Via col drone, vai Vai col drone Precisione, attenzione Ma questo che cos'è? No, ma perché mi rubano le kill? Mi sto giocando da sdraiato Ehi, dove vai? Ma io tiro i pugni Questo qua si mimetizza Ragazzi L'ultima kill Con il coltello Attenzione Non ci credo Signori Con il coltello Sono forte Bene, che dire ragazzi Call of Duty È un gioco che Consiglio Bella, vai Sì, rispetto Sghiera Sì Oh, guarda fa Lollo Bellissimo Quindi scaricatelo Perché è veramente molto bello Poi tra l'altro si può giocare anche con gli amici Con le cuffie Quindi il chat I pazzi Io volevo giocare con Don Pepe E le varie persone Qui gioco anche a Fortnite Come vedete Le dirette Che dire ragazzi Continuate a scrivere Commentate questo video Con magari il prossimo gioco da cellulare Da smartphone Smartphone Che vi piace di più Se vi va Io sono Armarein Continuate a scrivermi A seguirmi E ciao 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 Ciao